La Procura di Prato ha aperto un'inchiesta sulla morte di Luana Dorazio ed ha iscritto due persone nel registro degli indagati. Gli inquirenti stanno portando avanti accertamenti tecnici sul funzionamento dei dispositivi di sicurezza del macchinario tessile, un orditoio, in cui è rimasta incastrata la giovane operaia di 22 anni, madre di un bambino di 5, in una ditta di Montemurlo. In particolare, gli inquirenti si stanno concentrando su una saracinesca protettiva che potrebbe essere stata rimossa. Per i reati di omicidio colposo con rimozione o omissione dolosa di cautele contro gli infortuni su lavoro, a causa delle violazioni delle norme per la sicurezza, sono stati iscritti sul registro la titolare dell'azienda ed il responsabile della manutenzione dei macchinari. L'iscrizione da parte del Pubblico Ministero si è resa necessaria affinché i due indagati possano nominare un loro consulente per assistere all'autopsia. L'ipotesi degli investigatori della Polizia Giudiziaria è che Luana Dorazio sia stata stritolata dall'orditoio perché sarebbe stata rimossa la saracinesca, cioè il meccanismo destinato a prevenire l'infortunio. Gli inquirenti hanno ascoltato alcuni colleghi della giovane per ricostruire con esattezza la dinamica. Stiamo lavorando per capire se e cosa non abbia funzionato nel macchinario, compresa la fotocellula di sicurezza, ha spiegato la Nazione il procuratore capo di Prato Giuseppe Nicolosi. Abbiamo ricevuto i rilievi e ora nomineremo i periti per gli accertamenti tecnici sui documenti raccolti dalla Polizia Giudiziaria. Altri elementi emergeranno dall'autopsia che verrà effettuata dal medico legale Luciana Sonnellino.